Musica Domani al Senato il discorso di Draghi per la fiducia al governo, il voto in serata, giovedì si replica alla Camera. A Palazzo Madama nasce intergruppo PD 5 Stelle-LEU, botta e risposta sull'euro tra Salvini e Zingaretti. Nuova variante arrivata nel Regno Unito, la Germania prolunga le restrizioni, chiusure mirate nel nostro paese. Ministero della Salute, monitorare test rapidi, mutazioni potrebbero non essere intercettate, oggi poco più di 10.000 contagi. In arrivo su Marte la missione NASA, un rover raccoglierà campioni di suolo, a riportarli sulla terra bracci robotici costruiti in Italia. La carezza della memoria di Carlo Verdone, cinema, famiglia, incontri, biografia sentimentale di uno degli attori più amati. Prima medaglia azzurra ai mondiali di C.D. Cortina, Marta Bassino vince l'oro nel parallelo, exequo con l'austriaca Linsberger e dice non è finita, voglio conquistare il gigante. Buonasera a tutti voi dalla TG1. Siamo domani, nell'aula di Palazzo Madama, il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà il discorso programmatico con il quale chiederà la fiducia al nuovo governo.